Ciao a tutti e buona giornata! Oggi vi presento l'inno rivoluzionario per eccellenza, marsigliese, inno di Francia. Allora, ve lo presento con sintesia e quindi con questo flusso di note che arrivano sulla tastiera figurata sotto. Ci tengo a dire una cosa, all'inizio il brano è presentato a due mani, quindi si vede alla destra e fa re 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 sol sol la la re e la sinistra la stessa cosa, re 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 sol sol, quindi solo un'ottava di distanza. Secondo me ce la fate. Nell'eventualità fosse difficile studiate la parte sotto, quella centrale, ok? Con la sinistra o con la destra. Ci tengo a dire una cosa, nella seconda parte del video troverete lo spartito e ricordatevi che qui sotto c'è il link per lo stesso brano eseguito a flauto, quindi qualsiasi strumento voi amiate potete suonarlo benissimo insieme, le note praticamente sono le stesse. Ragazzi mi raccomando questo è un brano perfetto anche da portare all'esame di terza media, quindi buon divertimento a tutti! Grazie 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 a tutti!